Con questo tutorial vediamo un caso particolare della retta passante per due punti. Questa equazione prende il nome di equazione segmentaria della retta. Consideriamo un punto A che si trova sull'asse delle x di coordinate P0, mentre consideriamo un punto B sull'asse delle y di coordinate 0Q. Applichiamo l'equazione della retta passante per due punti ed è y meno la y del punto A, cioè 0, fratto la y del punto B che è Q meno la y del punto A che è 0, uguale x meno la x del punto A che è P fratto la x del punto B che è 0 meno la x del punto A che è P. Ed ottengo y fratto Q uguale x meno P fratto meno P. Questa quantità la vado a riscrivere in una maniera diversa, cioè vado a scrivere x fratto meno P e poi meno P fratto meno P. ed ottengo y fratto Q uguale meno x fratto P e poi meno P diviso meno P fa 1 e quindi vado a scrivere più 1. Ora vado a riscrivere questa quantità portando meno x fratto P a sinistra ed ottengo x fratto P più y fratto Q uguale a 1. Questa scrittura prende il nome di equazione segmentaria della retta. Adesso vediamo degli esempi per capire come poter applicare questa formula. Vediamo questo esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per A e per B dove A è il punto 0,3 e B è il punto 2,0. In questo caso, visto che A e B si trovano sugli assi, posso applicare l'equazione segmentaria della retta, cioè x fratto P più y fratto Q uguale a 1 e vado a scrivere x fratto P, cioè la x del punto che si trova sull'asse delle x e quindi vado a scrivere x fratto 2 più y fratto Q, dove Q è la y del punto che si trova sull'asse delle y, cioè 3. E quindi vado a scrivere 3 uguale a 1. A questo punto posso fare il minimo comune multiplo, posso scrivere la retta in forma esplicita o implicita. Ad esempio, posso andare a scrivere y fratto 3 uguale meno x mezzi più 1 e poi, moltiplicando tutto per 3, ottenere y uguale meno 3 mezzi x più 3. Vediamo quest'altro esempio. Lo scopo è scrivere l'equazione della retta che passa per il punto A e per il punto B. Siccome che il punto A e il punto B si trovano sugli assi coordinati, posso applicare l'equazione segmentaria, cioè x fratto P più y fratto Q uguale a 1, dove il punto A ha coordinate 0,2 e il punto B ha coordinate meno 3,0 e vado a scrivere x fratto P, quindi vuol dire la x del punto che si trova sull'asse delle x e quindi vado a scrivere meno 3 più y fratto Q e quindi vado a scrivere la y del punto che si trova sull'asse delle y, cioè 2 uguale a 1. A questo punto posso riscrivere la retta in forma esplicita e andare a scrivere y mezzi uguale 1 terzo x più 1, poi moltiplico ambo i membri per 2 e vado a scrivere y uguale 2 terzi x più 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Lo scopo è scrivere la retta che passa per il punto A e per il punto B. Il punto A ha coordinate 0,5 e mezzi, mentre il punto B ha coordinate 3,5 e 0. Siccome che il punto A e il punto B si trovano sugli assi coordinati, posso applicare l'equazione segmentaria della retta x fratto P più y fratto Q uguale a 1 e vado a scrivere x fratto 3 mezzi più y fratto 5 mezzi uguale a 1. Ora, questo 2 lo porta al numeratore e questo 2 lo porta al numeratore e vado a scrivere 2x fratto 3 più 2y fratto 5 uguale a 1. A questo punto voglio scrivere l'equazione di questa retta in forma esplicita e vado a scrivere 2y fratto 5 uguale a meno 2 terzi x più 1 e poi moltiplico ambo i membri per 5 mezzi ed ottengo y uguale a meno 2 terzi per 5 mezzi x più 5 mezzi. Ora vado a semplificare questo 2 e questo 2 ed ottenere y uguale meno 5 terzi x più 5 mezzi. E con questo esempio termino questo tutorial sull'equazione segmentaria della retta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.